E' VOLIVI! Benissimo ragazzi, il primo canale di oggi è di Loix02 Lui è un mio iscritto veramente da tanto tempo che ringrazia tanto E che porta video su Clash Royale e Clash of Clans Quindi se siete interessati a queste serie andate lì e vedete tutte quante Nella descrizione andiamo a leggere Ciao, mi presento, sono un ragazzo giovane, normale come tutti gli altri Che vuole far divertire i propri iscritti facendo gameplay o in futuro anche vlog Sul mio canale usciranno uno o due video a settimana, circa, sei il tempo per me Ma per tua fortuna non sarà una video di cacca, ma bensì sudati pur di strapparti una risata dal viso Quindi se l'idea e i miei video ti piacciono iscriviti e fammi vedere il tuo supporto Buona fortuna a noi Il secondo canale di oggi è di Polipo Red Questo ragazzo porta video principalmente su Clash Royale e FIFA Ma in passato ha fatto video anche su agar.io Come possiamo vedere ad esempio ha portato l'ultimo video che ha portato Che è stato Clash Royale Top 5 leggendari Dove mostrava magari le 5 leggendari più potenti del mondo Nella descrizione leggiamo Bella a tutti ragazzi In questo canale potete trovare sicuramente video su Clash of Clans, Blockade 3D e FIFA 16 Put Ultimate Game E il mio obiettivo è quello di farvi divertire nei miei video Chissà poi un giorno raggiungere uno di questi traguardi Come potete vedere questi sono i traguardi che lui ha raggiunto Anche se è quasi arrivato a 250 iscritti Quindi che dire passate dal suo canale e iscrivetevi se vi fa divertire Il terzo canale di oggi è quello di PopTiger Questo ragazzo sul suo canale è veramente molto attivo ultimamente Perché come potete vedere ha avuto un blocco temporaneo Come vedete qui come installare diversity è stato fatto 3 mesi fa E invece qui un mese fa quindi sono passati 2 mesi Però ultimamente sta portando veramente video anche molto divertenti Questi qui rimorchiamo alla ragazza l'ho visto E' veramente caruccio Ben fatto E' sempre quei soliti video che ormai vanno tanto di moda su YouTube Nella descrizione leggiamo Salve a tutti ragazzi sono PopTiger Ho cominciato a me a venire su YouTube per portarvi video divertenti e emozionanti Precisamente faccio solo tutorial Se ne vuoi altro beh iscriviti al canale E' gratis no? Grazie al vostro attributo Spero di arrivare a 1200-1500 iscritti verso fine dell'anno Tutto questo grazie a voi Quindi ragazzi andate da voi a 1322 iscritti Quindi penso che comunque gli iscritti siano meravigliati e sudati E infine l'ultimo canale di oggi è quello di Goldrake Questo ragazzo è troppo troppo simpatico Ma proprio tanto Sta a sé quasi sempre sotto ogni mio video Mette sempre il commentino E mi fa veramente il fiscia sotto Dai risate E come vedete porta praticamente solo GTA Io lo seguo anche per questo perché a me GTA piace molto Anche se non l'ho mai portato ma mi piace molto E anche le miniature che fa sono veramente fatte bene Cioè alla fine sono miniature che ti portano a cliccare sul video Quindi secondo la mia opinione questo ragazzo merita particolarmente a 746 iscritti Quindi andate nel suo canale per chi è interessato a GTA E iscrivetevi anche per il fatto che a questo video qua Le 40 canzoni più usate dagli youtuber Che per chi fa youtube potrebbe essere veramente utile Nella descrizione andiamo a leggere Eccoci qui ragazzi Sono un youtuber che vuole emergere Certo non è facile Per questo vi invito a supportarmi per arrivare insieme a grandi talguardi Si migliorerà la grafica e l'editing Cosa che si avvista molto bene Quando avrò la possibilità di comprarmi un'attrezzatura professionista Ma per fare ciò dovete aiutarmi ad arrivare a 5.000 iscritti O forse anche a 10.000 Forza ragazzi confido in voi Continuate a lasciare un like, a iscrivervi e commentare Bella Benissimo ragazzi Anche il video di oggi può terminare qua Io vi invito se ci riusciamo ad arrivare a 30 like per supportare la serie Che vi aiuterà ad essere sponsorizzati Come al solito vi invito di passare nella mia pagina facebook O dove ci possiamo fare mille chiacchierate Nella mia pagina instagram Di lasciarmi un commentino proprio qui sotto Vedetemi un attimo cosa ne pensate Di come sta andando ora il canale E come al solito vi mando un bacione Un abbraccione E se vi vediamo ragazzi al prossimo video Ciao 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 Ciao